Daniele Dal Moro finalmente svela le sue intenzioni ad Oriana Marzoli E ora, Daniele Dal Moro fa delle rivelazioni importanti ad Oriana Marzoli, ma la Murgia è in agguato un nuovo interessante triangolo si sta delineando nella casa del grande fratello VIP7 Quello formato da Nicole Murgia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli La prima, entrata pochi giorni fa nel reality, ha manifestato apertamente il suo interesse nei confronti del Veneto Si è dichiarata apertamente con lui la sera della vigilia Daniele le ha risposto che le piace come persona e che vuole andarci con i piedi di piombo perché lei è una madre Ma tra i due non è accaduto altro Nicole ha intuito che la sua rivale principale è Oriana Marzoli, e vorrebbe sapere se tra quest'ultima e Daniele ci sia qualcosa I due stanno vivendo una situazione particolare Lui, dopo la storia di lei